Ho ricevuto una marea di duri messaggi di vero imbarazzo da parte di nostri corregionali che abitano altrove e che ogni tanto vorrebbero invece provare il piacere di uscire da casa a testa alta in quanto siciliani. Io tutto questo non riesco a mandarlo giù. Diciamolo ancora più chiaramente. Da oggi non perderò una sola occasione di critica su tutto ciò che non verrà immaginato, pensato e fatto per l'esclusivo bene della Sicilia. Lo scrive oggi sul blog il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il forzista Gianfranco Micicchè, che da giorni ripete come la condanna del governatore Cuffara a 5 anni per favoreggiamento e rivelazione di segreto al processo all'etalpe della DDA abbia indebolito la Sicilia. Micicchè aggiunge, si è chiaro a tutti quelli che non sapendo cosa dire continuano a darmi dello sciacallo che io non voglio cambiare il governatore, voglio cambiare la Sicilia. Per l'inquilino di Palazzo e Normanni non si può accettare l'atteggiamento di superficialità con cui è stata letta la sentenza di condanna da parte di chi rappresenta tutti noi. Sui giornali italiani e stranieri è venuta fuori ancora una volta una Sicilia culturalmente arretrata, non ancora attrezzata a fare parte del mondo evoluto. Sin dalle prime dichiarazioni sarebbe stato utile lanciare segnali forti di cambiamento per dimostrare con nettezza che da oggi non esisteranno più neanche nei film vaghe possibilità di contatto con il cancro mafioso. E invece ad essere protagonisti sono state improbabili veglie in chiesa e ingiustificate contentezze. Micicchè se la prende anche con chi lo accusa di puntare alla presenza della regione. Sono stato attaccato come fosse un giustizialista, come qualcuno che utilizza una vicenda giudiziaria per interessi personali. E sapete da chi? Da una persona del mio partito. E anche il mio coordinatore ha cercato di smentirmi, ma alla fine conclude chi può pensare che uno come me si può lasciare intimorire da una contripposizione interna al partito? Allora mi sono chiesa il smalto e...